Proseguono i tentativi di furto nelle chiese della provincia di Ragusa. L'ultima segnalazione riguarda la parrocchia collegiata di Santa Maria di Bethlehem a Modica dove, secondo quanto riportato da un apposito messaggio affidato ai social, gli ignoti hanno tentato di forzare il portone della sacrestia con l'intento di introdursi nella chiesa. Fortunatamente il portone, nonostante i ripetuti tentativi, ha resistito dissuadendo queste persone dal continuare la loro azione e dandosi infine alla fuga. Al di là di allarmismi, prosegue il messaggio inviato sul profilo social della parrocchia, con questo post vogliamo invitare i residenti delle case limitrofe e la nostra chiesa a tenere alta l'attenzione e a segnalare alle forze dell'ordine i movimenti sospetti che potrebbero esserci soprattutto durante la notte. Il parroco di Santa Maria, Don Antonio Forgione, preso atto del gesto, ha provveduto a segnalare l'accaduta alle autorità competenti, le quali hanno acquisito le registrazioni video delle camere installate nella chiesa e nei punti di accesso. Invitiamo coloro che hanno compiuto questo gesto alla conversione, conclude il messaggio, poiché nulla si guadagna con questo comportamento.